Vediamo con più precisione cosa intendesse Tucidide, Pericle, probabilmente questo discorso che ci ha riportato da Tucidide molto fedele a quello che veramente Pericle tenne nell'occasione appunto della commemorazione di questi caduti e quindi possiamo dire davvero che sono parole di Pericle però bisogna leggerle nell'originale per intendere il significato e cercare di interpretarle e poi vedere da queste che cosa ne può derivare per l'idea di democrazia credo che chiunque abbia ascolti per la prima volta queste parole rimane un po' stupefatto perché sembra davvero detta e fabula narrato non sono le idee di democrazia sbandierate ovunque, tali e quali l'uguaglianza di fronte alla legge, tutti uguali di fronte alla legge avanzare per il merito non è la chiacchiera sulla filosofia quotidiana ecco, qui non è una chiacchiera sono grandi idee originarie che ci vengono presentate con alcune delle parole più alte di tutta la letteratura greca siamo ai fondamenti della nostra civiltà quando affrontiamo testi di questo genere per così dire, quando affrontiamo testi di questo genere bisognerebbe un po' togliersi i calzari come ha fatto Mosè di fronte al rovetto ardente sono le pietre miliari, i fondamenti del nostro discorso, del nostro linguaggio sentite, della nostra civiltà quindi bisogna avvicinarsi ad esse con una certa con un certo aidos, direbbero i greci con un certo pudore, con una certa reverenza e un certo pudore al centro, certo, giustamente quello che colpisce di più è che a un certo momento Pericle dice voi Atenesi tutti noi Atenesi siamo filocaluntes cai filosofuntes tutti noi Atenesi amiamo il calon che noi traduciamo bello e filosofuntes, cioè siamo filosofi giustamente la traduzione dice amanti del sapere ma il termine è filosofuntes cioè coloro che fanno filosofia tutti gli Atenesi amavano il bello e facevano filosofia un po' strano ma qui c'è il significato originario di questi termini il più profondo che viene recuperato non è certo che gli Atenesi erano amanti dell'arte tutti e tutti filosofi non in un senso come dire disciplinare per cui tutti coltivassero queste specifiche discipline non so, storia dell'arte e filosofia che cosa intendeva? che cosa suona in queste parole di fondamentale per tutti per tutti gli Atenesi per tutti noi dice voi Atenesi siete coloro che amano cioè che perseguono che ricercano philein philos attenzione anche qui c'è la radice che va ricordata philos è la stessa radice probabilmente del latino phus cioè appartengono è un senso di appartenenza alla philia tutti voi Atenesi in qualche modo appartenete alla dimensione del calon e tutti voi Atenesi appartenete alla dimensione della sofia e quindi rapporto quale rapporto tra il calon e la sofia allora tutti voi Atenesi amate il calon cosa vuol dire? che tutti voi Atenesi perseguite in ciò che fate il bello ma calos non vuol dire il bello ciò che piace il sentimento ah mi piace degustibus est disputando non ha assolutamente questo significato anzi è un significato opposto vuol dire voi Atenesi in ciò che fate in tutto ciò che fate perseguite un'opera la realizzazione di un'opera che sta che è salda che è integra che ha forma questo significato del calon calon è qualcosa che è compiuto e quindi perché compiuto anche serve è utile funziona questo è il significato del calon non il bello come diciamo noi ti piace? non ti piace? il gusto non c'è niente a che vedere con questa dimensione voi Atenesi a differenza di tutti gli altri greci siete quelli che quando fate una nave quando fate una casa quando fate un paio di scarpe quando fate un vestito perseguite come fine il farlo bene che stia in piedi che sia un'opera compiuta sia che facciate che sia che Fidia faccia il partenone sia che tu scalpellino ciabattino faccia un paio di scarpe devi lavorare secondo questo metodo indirizzato al calon avete capito? quindi tutti voi cittadini Atenesi lavorate bene lavorate bene sapete lavorare bene è lo stesso discorso che farà Platone poi Socrate e Platone quando si rivolgendosi agli artigiani Atenesi eccetera gli chiede ogni volta ma sai quello che fai o la tua è una praticaccia una tribè come si dice in greco è una praticaccia la tua fai questo perché è sempre stato fatto così perché funziona va vabbè lo fai così o sai quello che fai cioè sai rendere ragione di ciò che fai logon di donai dare ragione a ciò che fai voi Atenesi non fate per fare non fate secondo abitudine non fate perché così faceva la mamma faceva la nonna no voi fate sapendo ciò che fate e fate per fate opere siete dei maestri in ciò che fate questo significato del filocaluntes filosofuntes è la stessa cosa sofia è un termine antico greco che ritorna anche in Omero e in Omero ritorna nel contesto originario è la sofia di quello che fa le navi è il saper fare il sapere ma non il sapere del filosofo poi assume quel significato disciplinare specifico certo che lo assume ma mai perde questa origine perché anche quando la filosofia diventa come dire una scienza specifica Platone Aristotele ma anche i primi presocratici è sempre strettamente collegata a quella dimensione del sofia che è il sapere ma il sapere fare che risuona nel binomio tucidideo filocaluntes filosofuntes cosa fa essenzialmente prima di tutto la filosofia anche in senso diciamo tecnico cosa fa insegna ad argomentare insegna ad usare bene la parola insegna ad organizzare la parola e il discorso in modo convincente cioè a fare della parola e del discorso non una chiacchiera ma un'opera un bel discorso come dice Platone nel simposio un bel discorso cioè un discorso che sta in piedi che è argomentato come si deve che diremmo noi logico coerente consistente consistente come dicono anche i logici contemporanei ecco allora perché ogni atenese è amante del bello e amante del sapere ogni atenese non perché siano storici dell'arte e filosofi in senso tecnico ma perché vogliono tendono a sapere fare bene passaggio logico nell'ambito del discorso di Gisideo se tu non sai fare bene ma che democrazia vuoi inventarti non esiste la possibilità di una democrazia perché perché cessa la possibilità di una partecipazione al bene per eccellenza che è il bene comune come fa a risultare il bene comune cioè il calon comune il bene buono comune se i membri di questa polis non sanno fare bene come vuoi che possa risultare il bene da una serie di lavori di azioni di prassi cattive è un assurdo logico capite cioè quindi la democrazia cioè quel governo che è del demos e non di pochi oligarchia può risultare soltanto se questi demos è formato i membri del demos sono filocaluntes cai filosofuntes altrimenti è del tutto illogico pensare a una democrazia di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio grazie a tutti